Il Consorzio Universitario di Caltanissette e l'Associazione Meno hanno organizzato il workshop Terzo Settore Imprese e pubblica amministrazione nuove sfide e opportunità proprio all'interno del progetto Skill uno dei percorsi organizzati dal Consorzio è dedicato al Terzo Settore per ridurre il divario tra domande e offerte di lavoro e per allineare le necessità di competenze richieste dalle imprese sociali con quelle possedute dai professionisti. L'evento organizzato per imprese dal Terzo Settore e associazioni a pubblica amministrazione ha affrontato più temi a partire dagli adempimenti fiscali fino a toccare i vari aspetti della normativa italiana ed europea riguardanti l'impresa sociale che per finalità e funzioni si differenzia dalla normale piccola e media impresa. Durante la giornata di formazione, dopo i saluti del Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissette Walter Tesauro e del Presidente di Meno Roberto Alberoni, si sono alternati gli interventi dell'Avvocato e Presidente del Network Trame Mario Albergoni, dell'esperta di progettazione culturale e Vicepresidente Meno Margherita Orlando, della Dottoressa Alessandra Di Forti di Banca Intesa San Paolo e ancora il dirigente della Regione Siciliana Maurizio Pirillo, il sociologo e docente dell'Università Magna Grecia di Catanzaro Massimo Fotino, l'ingegnere gestionale Network Trame Maria Grillo, la dirigente Enea Marina Sorrentino e la commercialista componente del Network Trame Dottoressa Eleana Chifari. Un incontro formativo durante il quale i partecipanti hanno acquisito tutte le nozioni sulla normativa del terzo settore, strumenti utili all'accrescimento sia in termini qualitativi che dimensionali delle aziende che ne fanno parte.